Allora, è ufficiale, è ufficiale. Benvenuto Stella, è ufficiale, è ufficiale. Niente, è ufficiale. Abbiamo un mister che ogni tanto, capito, stai attento, Bucanano, Simone, quello un po'... Adesso arriva il periodo che va un po' in bambola, speriamo di no. Adesso arriva il periodo che va un pochettino in bambola, Bucanano ci servi come il pane su quella fascia, tanto so che ti farà giocare ad aprile, perché lo conosciamo, a gestione, non è che siamo messi bene a gestione, comunque sia, benvenuto Bucanano nella squadra, la prima squadra di Milano in assoluto e d'Italia per via del triplete. Ok, Stella, quindi ti raccomando, non vedo l'ora di vederti, Stella, porta qualcun altro da quei posti là, dai, che lì giocate bene, dai, cazzo, porta qualcun altro. Uno che non è tanto vecchio, finalmente uno comprato a titolo definitivo e tu raglia, Gobbo, raglia, come fanno a comprare, raglia, 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 tu raglia, intanto l'Inter fa il mercato. Avanti, avanti, un attaccante adesso, un attaccante subito. E Pavard deve essere titolare, Stella, eh, Bissek mette un pochettino a reposo, abbiamo visto che è un bel calciatolino, ma Pavard titolare, ok, Stella, non farmi girare i coglioni, perché se mi girano, se comincio io poi sai come finisce, no? Benvenuto Bucaman, Bucanan, Bucalan, Mucalan, come cazzo ti chiami?